Buongiorno a tutti, buongiorno all'autorità. Un caro saluto soprattutto ad Ermete e a Fabio, che sono dei grandi amici, ma soprattutto sono dei grandi amici di Coldiretti. Abbiamo condiviso numerosi e sfaccettati percorsi nelle nostre reciproche storie lavorative. Io non ho un discorso preparato, nel senso che tenterò di andare molto a braccio cercando di evitare di fare confusione, perché il mio destino è stato segnato come il destino di tutti gli altri che mi hanno preceduto, perché a simbola, seppur tenti di arrivare con un filo logico discorsivo in mente, poi è difficile non integrarlo con tutti gli spunti che emergono dalle riflessioni che vengono condivise. E devo dire che posso dichiarare di trovarmi in una condizione privilegiata, perché sentendo e seguendo con grande interesse gli ospiti che mi hanno preceduto, devo dire che ho la possibilità di prendere ogni osservazione, ogni ragionamento fatto ed espresso e calarlo in maniera molto empatica, ma molto precisa su quello che è il lavoro che Coldiretti ha fatto nella sua storia sindacale e sta continuando a portare avanti. Quindi cercando di rispondere alla esortazione principe di questa giornata, cioè chi siamo e che cosa possiamo fare, posso avere la presunzione di dire che come Coldiretti possiamo continuare a fare quello che abbiamo costruito negli ultimi almeno vent'anni della nostra attività sindacale. E non evitando di peccare di presunzione, ma perché la Coldiretti ha avuto soprattutto in questi ultimi due decenni la capacità non solo di mettere a terra una visione, un termine che molto è stato espresso nella giornata di stamani, ma anche nella giornata di ieri, che ci ha visto comunque protagonisti con il presidente Ettore, perché quindi vi dicevo Coldiretti non ha avuto solo la visione in questi anni, ma ha avuto anche la capacità di prevedere, quindi ha avuto anche la possibilità di usare uno strumento fondamentale che è quello della previsione. E questo è stato possibile perché chiaramente guidata da persone intelligenti, lungimiranti, ma soprattutto che hanno saputo farsi carico di quell'elemento di responsabilità che veniva richiamato anche stamattina. E nella previsione che ci ha guidato abbiamo avuto la capacità già diversi anni fa di capire come avrebbe potuto impattare un sistema globalizzato come quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi, fino alle poche ore prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino, di capire come avrebbe impattato sulla nostra agricoltura, sul nostro modello e sulla nostra idea di cibo. E alla luce di questo abbiamo avuto la capacità, la possibilità, ma soprattutto l'intelligenza di creare poi ovviamente un percorso sindacale, un percorso economico, ma anche un percorso sociale che potesse in qualche modo tutelare quella che era la storia agricola, ovviamente della regione Marche, riferendoci al territorio in cui oggi ci troviamo, ma ovviamente su larga scala anche per tutelare quello che era il modello agricolo e agroalimentare italiano. Abbiamo dovuto fare molte scelte impopolari proprio per riuscire a raggiungere questo obiettivo, anche sulle scelte impopolari prima si faceva un riferimento, ma abbiamo avuto la capacità di portarle avanti con un coinvolgimento costante e continuo di quella che era la cittadinanza. Noi fin dalle prime battute di attività degli ultimi due decenni incolli diretti abbiamo avuto la capacità e la consapevolezza di capire che il percorso dell'agricoltore doveva necessariamente congiungersi con un percorso di consapevolezza del cittadino, perché eravamo ovviamente convinti del fatto che la nostra unità produttiva, che non abbiamo più chiamato merce, non abbiamo più chiamato derrata alimentare, ma l'abbiamo chiamata cibo, aveva una valenza comune, così universale, che necessariamente avrebbe coinvolto tutti, quindi avrebbe coinvolto il territorio, avrebbe coinvolto l'ambiente, avrebbe coinvolto il paesaggio, avrebbe coinvolto tutti i beni comuni che chiaramente si intersecano con il lavoro che quotidianamente portiamo avanti. E quindi nella nostra attività abbiamo sempre tenuto come obiettivo fisso l'azione particolare, ma che potesse dare risposta invece ad un'esigenza universale che era appunto quella della società all'interno del quale ci trovavamo non solo come sindacato, organizzazione, ma anche poi come soggetti economici, perché comunque rappresentiamo un pilastro fondamentale della nostra economia. Il settore agroalimentare rappresenta quasi il 17% del PIL dell'economia italiana, un numero e un dato che ci auguriamo possa continuare a crescere, soprattutto alla luce della rinnovata sensibilità anche dell'opinione pubblica e dell'opinione politica sulla centralità di un settore così fondamentale. Ieri ci si ricordava che il settore agricolo è definito in realtà settore primario proprio perché è alle basi ovviamente di non solo un'economia ma di una società che poi chiaramente si è creata sul valore del cibo e di quello che le nostre campagne sono in grado di produrre. Quindi da questo punto di vista continuiamo e continueremo a portare avanti un percorso di tutela di quello che è il modello agricolo e agroalimentare italiano, ma non perché ancorati ad una idea nostalgica di quella che è stata l'agricoltura fino ad oggi, ma perché assolutamente consapevoli del valore intrinseco che porta con sé e soprattutto della potenzialità che questo valore si può poi trasferire ad un diciamo concetto di forza economica più ampia, cioè noi dobbiamo ritornare a parlare sempre di più di valore dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del cibo e soprattutto di tutti gli impatti poi trasversali che ha sul territorio, sulla società, sulla cultura e da lì costruire un modello economico, politico e sociale per il nostro paese che possa renderlo più forte in Europa e dall'Europa a livello internazionale. Quindi su questo noi sentiamo ovviamente addosso il peso di una grande responsabilità ma soprattutto sentiamo addosso il valore estremo appunto di un settore che è sempre stato bistrattato, perdonatemi adesso questa piccola pillola di leggera polemica ma in realtà anche in questo caso il valore dell'agroalimentare è tornato centrale nel momento in cui abbiamo dovuto gestire un'emergenza e anche qui ritorno ad un passaggio che faceva in maniera molto eccellente prima il dottor Curcio, che ha la possibilità di parlare di prevenzione solo nel momento in cui si verifica l'emergenza e anche noi spesso ci troviamo in questa condizione, cioè nella condizione di far capire che in realtà la centralità del cibo non può emergere solamente il momento in cui si scatena un conflitto e da questo conflitto si scatenano delle grandissime conseguenze a livello di rincari di appunto di fattori produttivi, a livello di scarsità di cibo e anche a livello di grandi preoccupazioni legate a fenomeni di carestia che saranno sempre più crescenti, non solo nel Mediterraneo ma anche nel nostro paese e cui riferimento al dato drammatico che padre Enzo Fortunato ci dava prima, cioè di un elevato numero di cittadini in condizioni di povertà e quindi poi scarsa accessibilità ovviamente anche a quello che è un bene primario appunto come il cibo. E quindi credo che da questo punto di vista abbiamo il desiderio, la voglia, la determinazione di continuare a rappresentare quell'elemento sussidiario fondamentale oggi perché col diretti ovviamente in primis è il mio osservatorio, ovviamente il mio punto di vista ma credo che possa valere per tante altre organizzazioni del settore produttivo, del settore economico ma anche del settore sociale, del terzo settore, abbiamo oggi quel ruolo fondamentale di cerniera e di tenuta, cioè abbiamo il ruolo fondamentale di riuscire a trasformare la paura e l'incertezza che oggi pervade grandissima parte della nostra società e di trasformarla in realtà in una logica di prospettiva futura facendo loro capire in questo caso agli agricoltori che oggi abbiamo in mano uno strumento potentissimo che è appunto quello di un'agricoltura legata al territorio, di un'agricoltura legata al paesaggio, di un'agricoltura legata ad un modello di transizione ecologica che fin dalla notte dei tempi abbiamo sempre guidato e portato avanti. Siamo anche il primo esempio di economia circolare, cioè è sempre stato un modello di economia circolare dell'agricoltura, ovviamente anche il nostro settore ha seguito e continuerà a seguire dei processi evolutivi in tal senso e quindi tutta l'innovazione che stiamo portando soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura di precisione, un'agricoltura che sia sempre più vicina al modello del biologico, su questo l'Italia ha un primato a livello europeo e quindi a livello internazionale e quindi su queste basi noi continueremo ovviamente a costruire il nostro percorso e soprattutto a dare quel contributo che Simbola oggi ci chiede e che appunto continueremo a costruire con una grande consapevolezza ma soprattutto con la grande responsabilità di rendere sempre più percepibile e tangibile il grande valore che gli agricoltori plasmano quotidianamente con la loro attività. Grazie a tutti